ciao a tutti è il mio primo video sul canale siamo su un tipo di fortnite sul telefono che io sono ivano giocheremo per la prima volta insieme è il mio canale spero che presto cambieremo nel senso è il mio primo video non so ancora che devo fare cioè stiamo sul mio primo gioco e mo direi di cominciare cominciamolo ok e mo possiamo scegliere la macchina ma ti porta proprio ben meglio per noi come si spara così vabbè la prima partita non c'avevo lo scudo già 100 guardate le mani oh ecco il passo vedete che abbiamo fatto c'è Jason è il primo ecco è quella è un balletto raro ma andiamo mi sa qui no il labirinto si andiamo al labirinto vai a vedere poi quello ti porta proprio di questo non ho copiato fortnite ma io che sono eccomi ehm no abbiamo cominciato malissimo malissimo cioè ma c'è pure uno aiuto no ma come loro mi in senso mi picchiano a caso in senso vengono gli altri però quasi livello due beh a livello beh ah no sai il passo ti davano praticamente tutta la vita quello che volevi quello che sogni nella tua vita dai ah no questo skin wow c'è buona skin e neanche facciamo un'altra partita dai questa la devo far bene perchè già ho fatto tutte cose da scemi pure se è il mio primo video sì siamo senza una persona ne troppo non ci saremo andiamo comunque partiamo con la femmina yeah un'arma prendiamo i colpi è in una vaia spre care colpi ma dai non scarpare No Eh sì Due No Vabbè due kill Ma ci stanno tutti? Eh No Adesso Sai fai due kill Ti danno un sacco Ok L'abbiamo scoperto Voglio vedere Un attimo Spolverata Voglio vedere I balletti Ah no Ecco ecco Pioggia verde Guardate Ti ho messo la pioggia di fuoco Applauso E peri Già sembra un sacco bello Robot Sarebbe Invece questo è quello dei pagliacci Vediamo Muoviti cagnolino Questo sarebbe Questo sarebbe giustizia arancione Ma non perdiamo tempo E facciamo partite Quindi Questa è la mia Quarta o terza partita Boh Me lo sono già dimenticata Ma No No Sono andata La città di prima Se non mi sbaglio Io Sono Pippo Io Un pompa Un pompa Sono forti Quindi mi prendo il pompa Quello mio È il cecchino Ma Non scappare Ma pure Ma pure Ma come Non li levavo niente Comunque Piccoli amici Questo è stato il mio Primo video Emo Qui nei commenti Ditemi Emo Qualcos'altro Qualche altro gioco Tipo Emo Da giocare Così almeno Giocheremo insieme Quindi In senso Ditemi i vostri nomi Se avete questo gioco Che sta scritto Qui Dove indica il bambino A sinistra Sopra Quindi Lì Yeah Sono forte E Ciao Ciao Al prossimo video